Citroen C3 offre 33 combinazioni di colore, proprio per persone come Marina e Martina. E tu di che colore sei? Citroen C3 da 9.950 euro. A novembre con Color You il colore del tetto è in omaggio. Citroen. Ben trovati con un nuovo appuntamento della nostra vetrina dell'auto. Oggi siamo qui comodi comodi da Cittadella dell'Auto e io sono qui in compagnia dei padroni di casa, Andrea e Lara, che non vedono l'ora di raccontarvi tutte le novità dedicate a voi. Ciao Lara, ciao Andrea. Soprattutto c'è Andrea che ha proprio questa voglia, questa voglia proprio di spiegarvi tutto quello che ha studiato, perché di novità ce ne sono tante. Bravissima Lara, hai ragione. Questo mese abbiamo tantissime opportunità che vi racconteremo qui a breve. Quindi seduti comodi anche voi, ascoltateci e non perdete neanche un secondo della nostra trasmissione. Partiamo subito con questa fantastica Peugeot 308, l'auto da viaggio per prepararci per le vacanze di Natale prossime in arrivo. Vettura del 2018, abbiamo una serie di auto disponibili del 2018-2019. Queste sono vetture 1.5 diesel, 130 cavalli, sia manuali che automatiche, tutte in allestimento Allure. L'allestimento Allure prevede già di serie cerchi in lega da 17, climatizzatore automatico, navigatore, bluetooth, presa USB, sensori di parcheggio, in questo caso per questa splendida vettura anche il tetto panoramico. Auto che proponiamo a un prezzo di 17.500 euro. Con la nuova formula Guida Sereno Ginzani Store troviamo all'interno della rata del finanziamento furto, incendio, atti vandalici, calamità naturali, cristalli e 24 mesi di garanzia nuovo del prodotto. Rata anticipo zero a partire da 175 euro al mese. Passiamo invece ad un'offerta dedicata ai nostri neopatentati, Peugeot 208, anche qua disponibilità di motorizzazione sia benzina che diesel, in allestimento sia Active che Allure. Partiamo da un prezzo esclusivo di 10.900 euro e per tutto il mese di novembre anche qui abbiamo la nuova formula finanziaria Guida Sereno Ginzani Store, quindi anticipo zero. Prima rata nel 2020 Scrivilo pure Lara, 2020, così se lo ricordano la prima rata parte dal 2020 e rata a partire da 109 euro al mese, quindi prime 36 rate da 109 euro al mese. Continuiamo il nostro percorso dedicato ai nostri neopatentati, passiamo a Citroen, passiamo alla nostra Citroen C1. Motore 1000, anche qui un'ampia disponibilità, sono vetture del 2018 che vanno dai 20 ai 30 mila chilometri, vetture per neopatentate, motore 68 cavalli, tutte in allestimento Shine, che è l'allestimento più completo, quindi Bluetooth, monitor touch, cerchi lega, climatizzatore, insomma completissime. Vetture chiaramente tutte 5 porte, questo è un prezzo esclusivo di 9500 euro, questa è la nostra proposta. Per tutto il mese continuiamo il nostro finanziamento Ginzani Store Guida Sereno, anticipo zero, possibilità di avere le prime 36 rate a solo 95 euro. Furto, incendi, attivandalici, calamità naturali e cristalli, a discrezione del cliente, si possono poi aggiungere a questa fantastica data di solo 95 euro. Terminiamo il nostro percorso di vetture idonei neopatentati passando a Citroen C3. Qui presentate in allestimento FI, l'allestimento più semplice, con climatizzatore, Bluetooth, presa USB, antisuperamento di carreggiata, cruise control. Abbiamo anche un'ampia disponibilità nelle versioni Shine, un pochino più accessoriate e rifinite. Partiamo da un prezzo esclusivo di 10.900 euro, fino a un massimo di 12.900 euro per allestimento Shine. Anche qui ampia disponibilità, come vi dicevo, sia di colori che di motorizzazioni, benzina o diesel, tutte idonee a neopatentati, in matricolazione tra il 2018 e il 2019. Prezzo a partire da 10.900 euro, ripetiamo sempre la solita nostra proposta finanziaria del mese di novembre, anticipo zero e prime 36 rate da 109 euro al mese. Se abbiamo un usato da rottamare, abbiamo la possibilità di darvi, di offrirvi un extra sconto di 700 euro come sconto rottamazione euro 2 euro 3 per tutto il mese di novembre. Passiamo adesso a qualche prodotto un pochino più esclusivo. Prima di tutto si parla di Peugeot 3008. In questo caso, nella versione GT Line, disponibili in salone sia motorizzazioni diesel che benzina. Prezzo esclusivo, Ghinsani Store, 29.900 euro. E parliamo di un GT Line del 2019, l'esempio qua, rosso e nero, con solamente 5.000 chilometri. Allestimento GT Line, parliamo dell'allestimento più completo. Telecamere, climatizzatore automatico, anticollisione, cerchi in lega, faria LED, navigatore, bicolore, tantissimi altri accessori da scoprire poi alla guida di questa bellissima auto. Prezzo esclusivo, 29.900 euro. Questa è un'auto, pensate, che costa oltre i 39.000 euro di listino. Anche per questa vettura abbiamo la possibilità di offrire un pacchetto finanziario con furto, incendio, attivandalici, calamità naturali, cristalli, senza franchigie e senza scoperto, con il valore a nuovo per 24 mesi. Quindi questa è una proposta esclusiva dedicata a Peugeot 3008. Prezzo, 29.900 euro. Prima rata, con possibilità prima rata nel 2020. E anche qua, possibilità anticipo zero e prime 36 rate da 299 euro al mese, solamente 299 euro al mese. Abbiamo parlato di Peugeot 3008, non potevamo non parlare anche della nostra sorella più grande, della Peugeot 5008, vettura a 7 posti, sempre allestimento GT Line. Anche per questa vettura abbiamo un'ampia disponibilità di prodotto. Si parla sempre di vetture 2018-2019, tutti in allestimento GT Line. Questa è in particolare veramente molto esclusiva, perché oltre ad essere allestimento GT Line, presenta anche tetto panoramico, telecamera anteriore e posteriore, anticollisione, chiaramente come tutte le vetture GT Line. Motore, 1.620 cavalli, solamente 20.000 chilometri, quindi è una vettura praticamente pare al nuovo. Prezzo esclusivo Ginzani Store, 29.500 euro. Anche qui possibilità di anticipo 0 e prime 36 rate a partire da 295 euro al mese. Per queste vetture poi abbiamo un'offerta esclusiva alternativa a questa proposta finanziaria, con un extra sconto rottamazione, se avete un veicolo Euro 3 da rottamare, abbiamo previsto uno sconto di 1.500 euro sul prezzo della vettura. Quindi possibilità di sconto rottamazione meno 1.500 euro. Proposta valida solo sulle vetture in pronta consegna fino a fine novembre. Passiamo a questa magnifica Peugeot 508. È l'ultima 508 station disponibile nel nostro salone. Si tratta di un allestimento business con tetto panoramico, interno in pelle, climatizzatore sempre chiaramente automatico, cerchi in lega da 17 pollici. Cambio manuale. Questa è una vettura del 2018 che ha percorso solamente 25.000 chilometri, circa 25.000 chilometri. Sempre vettura ufficiale Peugeot Italia. Parliamo di un prezzo esclusivo di 18.900 euro. È l'ultima vettura disponibile. E anche per quest'auto, sempre il nostro finanziamento Ghinzani Store Guida Sereno, con furto, incendio, attivandalici, calamità naturali e cristalli inclusi nel piano finanziario, e la possibilità di avere un finanziamento con tu anticipo zero e le prime 36 rate da 189 euro al mese. Questa è una proposta valida solo ed esclusivamente fino a fine novembre. Novità del mese di novembre. Peugeot 308, che abbiamo sì presentato prima nell'allestimento diesel, ma con motorizzazione. 1200, 130 cavalli, benzina. Tutte vetture del 2019. Abbiamo in stock più di 7-8 vetture disponibili in pronta consegna, con varie colorazioni. Tutti in allestimento Allur. Ripeto, in motorizzazione, 1230 cavalli, benzina. Chilometraggio dai 10 ai 15.000 chilometri. Praticamente tutte vetture pari al nuovo. Prezzo esclusivo Ghinzani Store per queste magnifiche auto, 17.500 euro. Anche questa è una vettura che supera i 27.000 euro di listino. Parliamo di un'auto praticamente pari al nuovo, a 17.500 euro. Con, anche per queste vetture, la possibilità di uno sconto rottamazione della propria vecchia vettura di 1.000 euro. Quindi, extra sconto 1.000 euro per questa fantastica vettura e possibilità di un finanziamento anticipo zero. E prime 36 rate da 175 euro. Passiamo a Citroen Cactus, il piccolo crossover di casa Citroen. Anche qui, ampia disponibilità. Tutte motorizzazioni, 1.200 benzina a 110 cavalli. Qui in salone ne presentiamo uno in allestimento Phil, ma abbiamo anche la possibilità di avere un'alternativa nell'allestimento Shine, quello più completo. Allestamento Phil, 1.210 cavalli. Sono tutte vetture del 2019, con chilometraggio non superiore ai 15.000. Prezzo esclusivo, 14.900 euro. Quindi, partiamo da 14.900 euro per guidare questa fantastica Citroen Cactus, 1.210 cavalli. Lara, spiegalo te però il finanziamento. Immagino che tu l'abbia compreso ormai. Sì, anche per questo mese abbiamo una rata con anticipo zero a partire da 149 euro. Benissimo, perfetto. Quindi, anticipo zero e 149 euro al mese per i primi 36 mesi. Furto, incendi, attivandalici, calamità naturale e cristalli a discrezione del cliente possiamo inserirli chiaramente nel piano finanziario. Anche per oggi il nostro spazio è terminato. Vi aspettiamo alla prossima puntata qui da noi in Cittadella dell'Auto. Vi ricordo il nostro sito www.cittadelladellauto.it per non perdere neanche una delle nostre fantastiche proposte. Grazie mille Andrea, grazie Lara, grazie ovviamente a tutti quanti voi. Mi raccomando, vi aspettiamo qui. Buonanotte. E allora io, guarda, passo subito il microfono a te, caro Andrea, perché so che oggi ci illuminerai, vero? Assolutamente, infatti non so che cazzo dire. La tua presentazione era stata bellissima, però te la rifai tutta. Io stavo ridendo già da un'ora, perché immaginavo. Vettura, anche questa, unica esclusiva disponibile in salone, ampia disponibilità in salone di queste vetture, prima dell'epoca che c'era solo questa. non ho mai fregato, non andava al pendarello, però non ho mai fregato, mi aspettavo che entrava il Dario, io sono più bello, e dovevo rifare da capo, meno male non è entrato. Bello. Stiamo continuando a riprendere. Però faccio anche un balletto, dai. Avete insomma, così, capito tutte le... In carta dalle... Giusto, ci sta. Capito tutte le offerte. Stavo pensando, ma devo dire il Dario. Noi sì, noi sì. Noi l'abbiamo capito. Sta per ripartire l'iniziativa straordinaria Ghinzani Store, che abbiamo creato l'anno scorso, Lara. Il nostro albero di Natale, l'albero di Natale Ghinzani Store. Cosa consiste l'iniziativa? Aiutaci anche tu a portare un po' di palline, decorazioni. Perfetto, aiuta anche tu a completare l'albero di Natale Ghinzani Store. Quindi se avete a casa decorazioni di ogni tipo, di ogni genere, portatele qua da noi, fateceli avere, ecco, tramite anche posta di HL. Accettiamo un po' di tutto per completare il nostro albero di Natale 2019. Vi aspettiamo numerosi, chiaramente, partecipate. Perché sono un po' spoglio. L'anno scorso era un po' triste. Dovevo riempirlo, dovevo caricarlo un po'. Se volete fare anche un'offerta. Se volete fare anche un'offerta libera per aiutare a completare l'albero, vi lasciamo l'Iban. Magari lo mandi te direttamente, personalmente, a ogni cliente, Lara. Esattamente. Vai, salutate i followers. Grazie a tutti. Come sarà l'auto del futuro? Avrà affari che sembrano i denti di un leone. I denti di un leone? Sì. Potrà volare? Ma dai, però avrà una strumentazione 3D per avere sempre tutto sotto controllo. E funzionerà a benzina? Sì, ma sarà anche elettrica, con un motore che suonerà proprio così. Ma non si sente nulla. Esattamente. Per chi anticipa il futuro. Nuova Peugeot 208. Peugeot.